Benissimo, allora riposati, riprendiamo il nostro conto, partendo esattamente da dove eravamo rimasti. Vedremo vari casi a seconda di come si comportano gli integrali a primo membro, sì perché l'espressione sotto la radice quadrata, l'integrando, non è detto che sia sempre strettamente maggiore di zero, così da dar senso all'integrale. Può capitare che questa da maggiore di zero diventi uguale a zero, e allora a quel punto ci sarà un integrale improprio, però potrebbe succedere anche altro, e comunque lo vedremo, adesso non spoileriamo troppo, lo vedremo fra un attimo in questa rassegna del metodo di Weierstrass. Vediamo. Quindi conviene, di fatto si tratta di integrare questa equazione e poi invertire l'integranda, dopodiché ne esce la soluzione. Il problema è che questa equazione qua, spesso, questo integrale, spesso è molto difficile da fare, e anche quando si riesce a fare è molto difficile poi invertire e trovare la funzione x di t. Allora, conviene, diciamo così, introdurre una notazione un pochino diversa, che è questa, cioè poniamo g grande di x, x con zero ed e, che quindi questi sono parametri, datano proprio da questa, da questa espressione integrale di, tra x di t zero e x, diciamo così, di di xi fratto radice di g di xi e, ecco, quindi è una funzione di x, e questa funzione, diciamo, dove esiste, ha sicuramente la derivata positiva, derivata rispetto a x, è tutto quello che c'è dopo il punto virgola, sono parametri. Infatti, la sua derivata è esattamente 1 fratto la radice di g di x e, e quindi, siccome g è maggiore o uguale di zero, maggiore di zero, questa qua esiste ed è strettamente positiva. Quindi questa funzione g è strettamente positiva finché esiste, ed è quindi invertibile. Quindi, diciamo così, oltretutto ha una proprietà, e cioè che g di x zero, x zero e, è uguale a zero. Perché? Perché è l'integrale fra, x zero si intende x di t zero, eh? Perché è l'integrale fra x zero e x zero di una funzione, e quindi fa zero. Allora, vediamo un po' se riusciamo a disegnare questa funzione g, perché questa sarà utile, molto utile per il seguito. Quindi, supponiamo di prendere, quindi qui abbiamo per esempio il valore x con zero, e questa funzione qua, a questo punto sarà, esisterà per un po', non si sa per quanto esiste, però è strettamente positiva, è strettamente crescente. Allora, ovviamente, noi sappiamo che la soluzione del problema, espressa in termini di g, adesso si scrive in questo modo. Si scrive g di x di t, punto e virgola, x con zero e, uguale a t meno t zero. Questa è esattamente la riedizione con la nuova notazione dell'equazione incorniciata in verde, e quindi continuiamo ad incorniciarla in verde. Quindi, siccome g, abbiamo detto, è alla derivata positiva ed è invertibile, di fatto, allora, alla fine, x di t sarà data da g alla meno uno, g alla meno uno si intende rispetto a x, non rispetto ai parametri, di t meno t zero, e naturalmente mettiamo x con zero ed e, tanto per far piacere, per ricordarci che questa funzione qua c'è dentro dei parametri, poi vediamo, magari, qualche esempio che non sia tanto difficile. Allora, la cosa interessante è che qui c'è la funzione x e qui c'è la funzione g. Allora, se noi vogliamo trovare il moto, dobbiamo fare l'inversa di g, e l'inversa di g sapete che si fa facendo la simmetrica rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Quindi, se questo è il grafico di g, adesso facciamo il grafico di g alla meno uno in blu. Quindi, sarà una roba fatta così. Quindi, questo è g alla meno uno. Cosa vuol dire? x di t è g alla meno uno. Quindi, vuol dire che questa retta blu, questa curva blu, dà il moto di x. Quindi, noi dobbiamo prendere, a questo punto, non è banale, dobbiamo prendere un altro paio di assi, che saranno stavolta t e x di t, e rappresentare la curva blu in questo grafico. Quindi, riprenderla semplicemente uguale. Quindi, vediamo se riusciamo. Ecco, la mettiamo esattamente lì dov'è. Quindi, questa curva qui, vedete che in qui facciamo conto che sia t con 0, facciamo finta che questo sia t con 0, che molto spesso è uguale a 0, allora qui, effettivamente, x di t diventa x con 0. Perché? Perché questo valore qua è simmetrico di questo. E quindi questa altezza qua è proprio x con 0. Quindi, quello che succede a x di t, uno lo vede in questo modo qua. Questa è la legge oraria del moto. Ecco, teniamo quindi sempre presente che ci sono come due grafici sovrapposti, no? Questo in cui qui c'è x e g, e sotto, in un certo senso, no? In filigrana. Vediamo un po' se riesco a fare una roba di questo tipo. No, questo è troppo spesso. No, se riesco a farlo è meglio. Ecco, diciamo che qui sotto ci possono immaginare degli assi nascosti del tipo t e x e questa curva blu funziona anche per quello lì che poi è quello che ci interessa di più. Perché così tante proprietà che vedremo della g poi si possono trasferire immediatamente alle proprietà della x. Allora, adesso torniamo un attimo all'analisi. anzi no, facciamo un esempio facciamo un esempio prima di impazzire. Prendiamo g di x e uguale a g di x e basta e prendiamo radice di anzi no, possiamo fare così radice di x al quadrato più e ecco, prendiamo questo esempio qua. Quindi abbiamo l'equazione x punto scusate, senza radice x punto radice c'è già radice di x al quadrato più e benissimo. Allora, quindi il nostro problema diventa integrale fra x con 0 e x di 1 fratto radice di g quindi radice di x al quadrato più e uguale a t meno t con di x anzi scriviamo xi per essere precisi e qui mettiamo t meno t con 0. Ok. Allora, prendiamo per semplicità un valore e maggiore di 0 così non ci pensiamo più e prendiamo semplicemente uguale a 1 anzi, eh, così tanto dobbiamo fare un esempio. Poi in teoria è un parametro e bisogna variare questo parametro. Allora l'integrale fra x con 0 e x di di xi fratto radice di x al quadrato più 1 x al quadrato più 1 qui bisogna fare un cambio di variabile bisogna oppure xi uguale al coseno iperbolico no, scusate al seno iperbolico di u quindi diciamo xi è uguale a un mezzo e alla u meno e alla meno u perché? Perché di xi è il coseno iperbolico di u quindi di u ma la cosa più importante è xi quadro più 1 che sarebbe seno iperbolico al quadrato di u più 1 è uguale al coseno iperbolico al quadrato di u perché 1 sarebbe coseno iperbolico al quadrato meno seno iperbolico al quadrato e quindi viene e quindi la radice è coseno iperbolico adesso il segno mettiamolo col più perché tanto questo cambia semplicemente da che parte gira il moto quindi abbiamo integrale adesso bisogna vedere degli estremi quindi abbiamo che se xi è uguale a x con 0 abbiamo dobbiamo prendere un seno di iperbolico di u 0 tale che seno di iperbolico di u 0 sia uguale a x 0 e allo stesso modo seno iperbolico di u uguale a x dobbiamo scrivere questi due valori ma non li scriviamo per ora perché ci ricordiamo semplicemente queste condizioni per vedere poi di sostituirle allora qui abbiamo un integrale fra u 0 e u di poi abbiamo detto quindi adesso viene facile perché dxi è coseno iperbolico di u in du e poi la radice di x quadro più 1 ci fa il piacere di essere il coseno iperbolico di u per cui questo è uguale a t meno t 0 e non cambia per cui alla fine questo fa 1 e quindi l'integrale è u meno u 0 uguale t meno t 0 e vuoi dire ah che bello sì però io devo trovare x quindi sostanzialmente io è vero che ho u di t uguale u 0 più t meno t 0 però u di t malauguratamente verifica seno iperbolico di e allora io cosa faccio faccio prendo il seno iperbolico di tutto e scrivo seno iperbolico di u di t uguale seno iperbolico di u 0 più t meno t 0 ecco e quindi seno iperbolico di u di t per ipotesi è x di t e quindi ho x di t uguale a seno iperbolico di u 0 che è una roba tremenda perché sarebbe l'arco seno iperbolico e poi più t meno t 0 quindi avrò un'espressione con dentro il t quindi avrò una roba del tipo un mezzo e alla u 0 più t meno t meno e alla u 0 meno u 0 meno t più t 0 almeno in questo modo ho trovato x vediamo di capire qual è la funzione g che la funzione g in questo caso è un po' nascosta perché l'integrale di 1 fratto radice di x al quadrato più 1 tra x con 0 e x è la funzione g allora questa funzione qui adesso è diventata u meno u 0 quindi è il seno iperbolico di x di t alla meno seno iperbolico alla meno 1 di x di t meno il seno iperbolico alla meno 1 di x di 0 ecco voi sapete che l'equazione e alla u meno e alla meno u fratto 2 uguale a x ammette sempre una e una sola soluzione perché il seno iperbolico si comporta bene non è una cosa strettamente monotona e niente viene un'equazione di secondo grado bisogna andarsi a prendere la soluzione giusta però questa è l'espressione della cosa non è facile in questo caso disegnarla questa funzione qui o meglio sì basta fare la la simmetrica di questa però ecco una funzione così in rosso siccome poi noi abbiamo già di fatto trovato il moto a meno a meno interesse da questo punto di vista vedete che comunque il moto è quello che si ottiene facendo il simmetrico della rossa che era quella da cui siamo partiti benissimo allora questo come esempio ci conforta ecco solo che adesso cosa succede succede che ci sono due casi quindi questo qua è adesso incominciano i primi due casi il caso a il caso a è quello in cui la funzione g di x di t la soluzione punto di virgola e rimane maggiore di 0 per ogni t maggiore uguale di t con 0 cioè che l'equazione è sempre definita quindi ma sulla soluzione quindi che questa procedura qua poi fornisce una soluzione che esiste per ogni t come è il caso che ci è venuto nell'esempio il caso b invece è quello in cui esiste un t con 1 maggiore di t con 0 in cui uno abbia che g di x di t con 1 per fissato e è uguale a 0 nel momento in questo momento in questo istante l'equazione cessa di funzionare perché c'è il denominatore che è diventato 0 è vero che dal punto di vista dell'equazione di partenza quella in cui non abbiamo diviso questa cosa funziona ancora però il metodo che abbiamo messo in moto non funziona più allora adesso esaminiamo con calma i due casi quindi torniamo cominciamo dal caso a il caso a si divide in due sotto casi nel caso a1 a1 vuol dire che la g di x di t scusate che in cui l'integrale fra x con 0 e più infinito di di xi tratto radice di g di xi e è uguale a più infinito cioè che questo integrale qua è divergente a più infinito cosa vuol dire allora vuol dire che andiamo in termini della funzione g che cosa significa della funzione g grande che cosa significa dunque vuol dire che io ho una funzione g grande quindi qui ho x e qui ho g grande di x e ho una funzione che diciamo così è definita per ogni intanto nel caso a la g grande di x punto e virgola x con 0 e è definita per ogni x tranquillamente perché il radicando è sempre maggiore di 0 nel caso a e quindi la funzione chissà qual è però è sempre definita allora che cosa succede succede che la funzione g che è l'integrale può essere fatto in questo modo qua può avere una forma di questo tipo semplicemente va all'infinito per x che tende all'infinito e quindi questo è il caso a1 allora in questo caso qui la simmetria si dice che questa funzione continua a crescere e la simmetria si dice che la funzione che darà il moto anche lei sarà sempre crescente e non si fermerà mai quindi per simmetria x di t esiste per ogni t e tende a più infinito per t che tende a più infinito quindi questo si chiama il cosiddetto moto progressivo ed è proprio il caso dell'esempio proprio il caso dell'esempio vediamo se possiamo mettere magari l'esempio a1 così uno si ritrova perché questa funzione qua si vede che è sempre definita e l'integrale chiaramente l'integrale di questa funzione qui si vede che è più infinito perché se voi siccome era venuto u meno u zero e la x è monotona cioè x è legato al seno di u seno iperbolico di u quindi se x tende a più infinito anche il seno iperbolico tende a più infinito e l'integrale che è u meno u zero tende a più infinito anche lui e di conseguenza viene e beh basta quindi vuol dire che il moto continua sempre nella stessa direzione non si ferma mai e va avanti ed esiste per ogni t ecco questo è un fatto interessante poi c'è il caso a2 il caso a2 è quello in cui ecco ricordate che g è monotona è strettamente monotona quindi non può oscillare può soltanto o andare all'infinito oppure tendere a un valore costante ecco il caso a2 è quello in cui il limite per x che tende a più infinito di g grande di x punto e virgola x con 0 e è uguale a un certo valore g infinito quindi vuol dire che la nostra funzione g grande ha un assintoto ha un assintoto orizzontale quindi qui abbiamo x qui abbiamo g grande poi c'è un bel asintotozzo orizzontale e la funzione g si comporta così cosa significa questo in termini di x che è la funzione inversa la funzione inversa continua a esistere però ha un comportamento stavolta ben diverso da quello di prima perché se uno prende se uno fa il simmetrico rispetto alla bisettrice di questa retta quindi qui c'è la bisettrice del primo e terzo quadrante e uno fa il simmetrico dell'assintoto orizzontale e gli viene un assintoto verticale e quindi il moto almeno il grafico simmetrico sarà in cui sarà fatto un'unica brutto sarà di questo tipo in ogni caso siccome questo è x adesso arriva il punto interessante ricordatevi che qui sotto c'è un grafico nascosto e cioè che questo stesso grafico funziona anche per il grafico tx allora cosa significa questo che lo stesso grafico funziona anche per il grafico tx significa che esisterà un istante t segnato in cui la funzione x di t va all'infinito quindi esiste un t segnato che tra l'altro è uguale è uguale al valore di g infinito quindi uguale g infinito perché ricordatevi che t meno t zero anzi sarà t zero più g infinito quindi potremmo chiamarlo facciamo così chiamiamolo t infinito che è più bello ecco chiamiamo questo t infinito quindi esiste un t segnato che è t zero più t infinito in cui x di t segnato diventa più infinito che è una cosa molto strana però in meccanica classica si può avere vediamo quindi facciamo l'esempio a2 l'esempio a2 ha semplicemente questa g di x g di x uguale per esempio x alla quarta ecco anche qui facciamo x alla quarta più e poi mettiamo e uguale a zero e così ci togliamo il calcolo di e allora l'equazione è x punto uguale x alla seconda perché sarebbe la radice di x alla quarta presa col più poi prendiamo x di t zero per esempio uguale non possiamo prendere zero perché lì c'è un punto di equilibrio mettiamo x di t zero uguale a uno allora facciamo di x fratto x alla seconda integrale anzi di xi fratto xi alla seconda fra x con zero e x uguale a t meno t zero quindi uno fratto x alla seconda la la primitiva è meno uno su xi calcolato fra x con zero e x uguale a t meno t zero quindi in questo caso non è difficile trovare la g verifichiamo quindi la g di x x con zero e e che sarebbe uno e che sarebbe zero in questo caso è uno su x con zero meno uno su x ok e che nel nostro caso x di t zero è uno quindi è uno meno uno su x allora questa funzione andiamo a vedere come è fatta a un assintoto orizzontale vedete questa qui è una funzione che comincia da zero poi cresce perché e in zero fa zero perché è giusto perché abbiamo detto che g di x zero x zero deve fare zero infatti uno meno uno fa zero e poi cresce e tende a uno allora quello che noi prevediamo nel nostro problema è che t con zero più uno sarà t t segnato sarà t asterisco sarà l'istante in cui il punto va all'infinito allora quindi adesso non dobbiamo fare altro che invertire quindi uno su x zero meno uno su x di t è uguale a t meno t zero perché ricordate che alla fine questo questa è l'equazione è la soluzione dell'equazione quindi facciamo un pochino di conti abbiamo x di t meno x con zero fratto x con zero x di t anzi no non si fa così si fa si fa uno su x di t uguale uno su x con zero meno t meno t zero poi si scrive x di t uguale uno fratto questo e poi si dà un po' di denominatori e quindi viene x con zero fratto uno meno x con zero che moltiplica t meno t zero ecco se non ho sbagliato i conti quindi siccome x con zero faceva uno viene uno fratto uno meno meno t più t zero allora vogliamo verificare che x di t fa più infinito in t zero più uno esatto vedete che questo è il denominatore t zero più uno meno t ed effettivamente si annulla si chiamano così uno fratto t zero più uno meno t ed effettivamente si annulla il denominatore per t uguale t zero più uno per t uguale a t quindi il limite per t che tende a t di x di t è uguale a più infinito dopodiché basta il moto cessa di esistere perché il punto è andato all'infinito in un tempo finito e questo diciamo così chiude l'esame dei dei casi a quelli in cui la g è sempre definita adesso cominciamo col caso b il caso b è quello in cui esiste un t uno maggiore di t zero in cui g di t uno punto di virgola è uguale a zero e quindi diciamo così salta il il problema allora prendiamo t minore di t uno anzi prendiamo t fra t uno e t zero e riscriviamo il nostro quello che abbiamo trovato integrale fra x zero e x di t di di xi fratto radice ah dimenticavo una cosa dimenticavo una cosa se uno ha se uno vuole sapere a occhio che cosa succede ecco si può ragionare diciamo così sulle potenze voi sapete che gli integrali del tipo uno su x alla alfa da uno a più infinito di x sono convergenti se alfa è strettamente maggiore di uno ok quindi vuol dire che le g di x della forma x alla due alfa diciamo che vanno all'infinito come x alla due alfa sono quelli che daranno origine a degli integrali convergenti altrimenti no altrimenti gli integrali sono divergenti quindi questa potrebbe essere anche una regola veloce per vedere che effettivamente questa cosa funziona vedete che io ho preso alfa uguale a due per determinare questo esempio perché sapevo che dovevo prenderlo maggiore di uno ecco allora torniamo a noi invece qui abbiamo g di x e uguale a t meno t 0 a questo punto se io faccio il limite per t che tende a t con 1 io qui ottengo un'integrale fra x con 0 e chiamo x di t 1 uguale a x 1 ammesso che esista e chiamo questa quantità x 1 cioè chiamo il limite se esiste per t che tende a t 1 di x di t lo chiamo x 1 va bene ecco d di xi fratto radice di uguale a t meno t 0 e quindi sarà t 1 meno t 0 adesso ci sono diciamo così due casi speculari diciamo rispetto a quello di prima questo è un integrale improprio perché perché che è g in x 1 è uguale a 0 per ipotesi perché abbiamo detto che x 1 è x di t 1 e nel punto scusate qui c'è qui c'è qui c'è qui c'è un x ecco sostanzialmente come x chiaramente x aumenta no partendo da t 0 la velocità è positiva quindi x aumenta e se arriva un istante in cui questa quantità fa 0 allora basta perché l'equazione non si può più integrare va bene si poteva anche definire diciamo così x 1 in questo modo qua si poteva anche dire che x 1 era il punto in cui g faceva 0 è lo stesso ecco allora il problema è che questo è integrale improprio perché g il denominatore diventa 0 e anche questo però per fortuna siccome l'integrando è positivo può essere solo o divergente o convergente cioè o positivamente divergente o convergente allora il caso b1 è quello in cui l'integrale fra x 0 e x 1 di 1 fratto radice di g di xi e indi xi è più infinito e il caso b2 è quello in cui invece è limitato è convergente allora che cosa succede in questo caso beh allora succede che la funzione g grande altra volta si comporta in maniera opposta rispetto a quello che succedeva prima cioè la funzione g di x x 0 ed e se uno prende il limite e lo fa per x che tende a x 1 questa roba qua gli viene più infinito perché questo sarebbe il tempo e allora vuol dire che se io prendo il mio grafico qui c'è x e qui c'è g vuol dire che c'è un assintoto verticale vedete questo è proprio il valore di x 1 e la funzione g sarà di questo tipo qua per esempio la fatta così tenderà all'infinito per x che tende a x 1 cosa succede al suo alla sua simmetrica beh la sua simmetrica avrà un assintoto orizzontale mettiamo un po' un pochino giusto ecco allora allora a questo punto la sua simmetrica avrà questa espressione per esempio può essere molto più complessa ma sicuramente monotona allora cosa vuol dire il grafico blu era il grafico della della legge oraria quindi vuol dire che il limite cioè che la funzione per t che tende a più infinito della x di t è uguale esattamente a x 1 quindi che cosa significa questo significa che il punto rallenta sempre di più ed infatti g la cui radice è la velocità tende a 0 però non raggiunge mai il valore x 1 quindi il punto rallenta 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 continua a rallentare e non finisce mai non raggiunge mai il punto il punto finale è quello che si chiama il moto asintotico ok allora qui c'è una cosa interessante da vedere e cioè quali sono le condizioni per cui questo integrale è convergente allora se dall'analisi 1 ricorderete senz'altro che se g di xi e è di questa forma cioè è un xi meno x1 alla alfa va bene con alfa minore di 2 ok perché poi quando si fa la radice viene minore di 1 allora quell'integrale qui è convergente tipo è un'integrale tipo 1 fratto radice di xi per intenderci no questo qui tra 1 e 0 tra meno 1 e 0 mettiamo no meno 1 non va bene tra ecco sì tra 1 e 0 poi cambia segno non importa questo qui è convergente se invece le potenze sono superiori a 1 è divergente allora in questo caso qui questo sarebbe convergente questo è un esempio in cui funzionerebbe allora più in generale potremmo fare una uno sviluppo in serie potremmo dire che g di xi e è intanto g di 0 e poi c'è un g primo scusate non x1 più g primo di x1 e per x meno x1 più g secondo di x1 e per x meno x1 al quadrato più vari termini ecco allora ricordiamoci che g di x1 e per ipotesi è uguale a 0 perché avevamo detto eccolo qua quindi nel caso b1 in cui siamo g di x1 e fa sempre 0 quindi cosa succede che g di xi e scusate era xi e è sempre parte sempre dal primo ordine proprio per come l'abbiamo costruito però potrebbe partire anche dal secondo ordine e anche da più avanti allora cosa succede dovete pensare che il denominatore è la radice quindi la radice di questa funzione qua sarà una cosa di questo tipo non è giusta ma vicino a x1 sarà così sarà una radice di g primo di x1 e per xi meno x1 alla un mezzo più la radice di g secondo di x1 e per xi meno x x1 alla uno poi ci saranno i moduli e tutto quello che serve ma chiaramente da qui si vede che se questa quantità è diversa da 0 l'alfa che è quello che fa convergere l'integrale cioè l'alfa questo qui è uguale a un mezzo e quindi se la g primo di x1 e è diversa da 0 ok allora l'integrale sarà convergente mentre invece se g primo di x1 e sarà uguale a 0 l'integrale sarà divergente siccome noi interessa il caso in cui l'integrale è divergente perché il caso b1 è quello in cui l'integrale è divergente vuol dire che questo diciamo in termini di comportamento della g vuol dire che la sua derivata in x1 deve fare 0 ecco abbiamo detto che il caso fisico era quello in cui g di x era due volte e meno u di x ecco che cosa vuol dire g di x e che cosa vuol dire g primo di x1 e in questo caso e vuol dire semplicemente due volte anzi meno due volte u primo di x che poi tra l'altro è due volte f x1 e tra l'altro è due volte f di x1 ma va bene ma cosa vuol dire quindi che questo è uguale a 0 vuol dire che u primo di x1 uguale a 0 quindi g primo di x1 è uguale a 0 vuol dire nel caso fisico che poi sono tutti fisici però quello facile vuol dire u di x1 uguale a 0 ma allora vuol dire se uno va a fare il grafico dell'energia potenziale no? come abbiamo fatto prima e prende diciamo così uno aspettate faccio un pochino più adatto a quello che mi interessa diciamo così ecco e prendiamo una e fatta così adesso lo metto a posto al posto giusto ecco voglio proprio mettere in corrispondenza del punto di massimo ma non mi lascerà fare non me lo lascerà fare ma va bene facciamo un bel puntone grande vediamo se riesco a spostare in alto il potenziale evviva sì ecco perfetto allora se io prendo questo valore di e che cosa scopro scopro che qui in questo valore qua x1 e non a caso lo chiamo x1 la derivata qui era la derivata eh la derivata di u è 0 quindi qui u' di x1 uguale a 0 e quindi vuol dire che se un punto parte per esempio da questa posizione x0 partirà con una velocità verso destra per esempio lui si muoverà però quando arriverà vicino a x1 comincerà sempre di più a rallentare perché in questo punto qua il g' sarà 0 e quindi ci arriva in un tempo infinito ovviamente poi ci saranno prima gli attriti che lo fermeranno e tutto quanto ma nel modello funziona così quindi uno può accorgersi nel moto asintotico quando il valore dell'energia va ad essere tangente a certi ai valori alla funzione u anche in questo caso ovviamente c'è un moto asintotico ma in questo caso qua è più semplice è più banale perché il punto qui non può muoversi da x con 0 perché non ha energia diciamo così non ha energia sufficiente per muoversi ma anche questo se volete è un caso particolare di moto asintotico e il moto sarebbe la quiete benissimo quindi abbiamo esaminato in dettaglio il caso B1 e adesso ci resta l'ultimo caso il caso B2 ovviamente il caso B2 è l'unico che resta che l'integrale fra x0 e x1 del nostro malefico integrale sia minore di più infinito ovviamente è positivo e quindi sarà uguale a un certo t1 meno t0 nel senso che definiamo t1 proprio lo definiamo noi come t0 più l'integrale fra x0 e x1 del nostro del nostro G ok naturalmente questo succede quando diciamo così quando G di x adesso l'abbiamo capito quando G di x è tipo x meno x1 alla un mezzo no scusate alla 1 più altre cose però che comincia col primo ordine quindi è il caso per esempio nel caso fisico in cui la retta verde interseca la curva in un punto in cui la derivata non è 0 allora cosa succede? succede che all'istante t1 dunque andiamo a fare come al solito il grafico della G grande la G grande a questo punto fa una cosa particolarmente bella cioè la funzione G grande parte dal solito x0 e poi abbiamo detto che arriva al valore t1 in un certo in corrispondenza di un certo valore x1 e quindi può essere per esempio fatta così attenzione in questo caso qui però la questa è la funzione G grande ora la funzione G grande ricordiamoci che era quindi quindi questo grafico non è giusto infatti avevo un dubbio perché la funzione G grande è l'integrale fra x con 0 e x di questo no? però qual è la derivata di G grande ovviamente la derivata di G grande è semplicemente l'integrante cioè 1 fratto radice di G di x punto e virgola e ma allora siccome G diventa 0 in x1 questa funzione di G grande ha la derivata infinita quindi ha la tangente verticale quindi come l'ho disegnata prima era sbagliata invece è così ecco quindi qui la tangente in x1 è verticale il grafico simmetrico di questa G che sarà quello che ci darà la legge oraria quindi sarà di questa forma sarà fatto in questo in questo modo e quindi avrà la derivata nulla quindi se ricordiamo come abbiamo detto che possiamo fare il grafico fantasma della nostra nella nostra funzione avremo che che in un istante nell'istante t con 1 qui c'è t e qui c'è x nell'istante t con 1 adesso si sovrappone molto con però facciamo un pochettino più in qua ecco magari alziamo un pochino va bene è che è fatta male la la simmetrica vabbè si capisce che all'istante che all'istante t con 1 la x di t punto è uguale a 0 quindi il punto arriva all'istante t con 1 con velocità nulla quindi diciamo così così come prima il punto è partito da x 0 si è mosso verso destra e poi è cominciato a rallentare a un certo punto x1 è fermo per un istante è fermo a questo punto cosa succede? succede che in teoria si danno due casi ecco il caso b2 a terribile è quello in cui x di t rimane costantemente uguale a x1 per t maggiore o uguale di t con 1 più t con 0 cioè il punto arriva in x1 e si ferma e ci possono essere delle soluzioni di questo tipo questo però è un caso strano perché se uno inverte il segno del tempo diciamo trova che a partire dalla posizione x1 ci sono due moti possibili uno è quello in cui x1 di t è sempre costantemente uguale a x1 e l'altro è quello che abbiamo appena visto ma invertito nel tempo diciamo la x x segnato di t uguale x di meno t ecco entrambi questi moti quindi x segnato 1 di t uguale a x di meno t e x segnato 2 di t uguale x1 entrambi questi moti sarebbero soluzioni del problema perché uno sta fermo e l'altro parte da fermo e questo è non va bene diciamo così non è verificato quando quindi non è impossibile se esiste una unica soluzione perché chiaramente se esiste un'unica soluzione di x due punti uguale cosa che era un mezzo g primo di x o quello che è se esiste se esiste un'unica soluzione di questa esiste un'unica soluzione anche di quella col tempo girato si vede subito perché cambiare t meno t vuol dire non cambiare l'accelerazione e cambiare il secondo membro e quindi se la g è se la g primo è lipsiziana se si comporta bene la soluzione esiste quindi questo non si dà diciamo così se il secondo membro è regolare abbastanza invece il caso b2b che è quello che succede sempre è il caso in cui in realtà il punto diciamo così in cui l'accelerazione la x2 punti di t1 andiamo a vedere che cos'era x2 punti di t1 torniamo indietro dopo facciamo anche gli esempi ecco x2 punti di t1 era eccola qui l'equazione ecco un mezzo g primo di xe quindi in realtà l'accelerazione era negativa e rimane negativa anche in x1 cioè g primo uguale un mezzo g primo in x1 è strettamente minore di 0 allora a che punto siamo siamo arrivati in un punto in cui la velocità è nulla quindi x punto di t1 più t 0 in realtà è uguale a 0 l'accelerazione punta verso sinistra ed è diversa da 0 quindi per il teorema del moto incipiente il punto negli istanti immediatamente successivi si deve muovere un pochino verso sinistra e quindi si riparte esattamente con la stessa soluzione con la stessa equazione però stavolta col segno meno e quindi questo vuol dire che il punto negli istanti successivi tornerà indietro quindi se volessimo continuare la g che ovviamente non possiamo farlo nello stesso grafico però il grafico blu continuerà per esempio in questo modo cioè il punto tornerà indietro per un po' finché potrà naturalmente potrebbe andare all'infinito in un tempo finito superiore a t1 oppure potrebbe continuare fino all'istante t2 in cui si ferma di nuovo e può fare tutto quello che abbiamo visto fare fino ad ora tornando indietro ma vediamo adesso degli esempi vediamo un esempio per il caso b1 cioè quello del moto asintotico cioè il caso in cui l'integrale da x0 a x1 è uguale a più infinito prendiamo allora gdx uguale se inquadro x e prendiamo x con 0 uguale a pi greco mezzi per esempio così che il seno è positivo e poi continua a rimanere positivo fino a pi greco allora chiaramente il valore x con 1 sarà pi greco perché è lì che si annulla il primo valore in cui si annulla allora abbiamo da fare quindi la g grande di x x0 e che naturalmente qui non c'è sarà l'integrale fra x con 0 e x di 1 fratto possiamo togliere il modulo perché in quell'intervallo lì il seno è positivo 1 fratto l'integrale del seno di xi quindi xi e questo è uguale al logaritmo della tangente di x mezzi calcolato fra x con 0 e x allora siccome x con 0 è uguale a pi greco mezzi tangente di pi greco quarti fa 1 logaritmo di 1 è 0 per cui questo viene il logaritmo di tangente di x mezzi allora questa funzione g cosa fa quando x è uguale a pi greco va a più infinito perché la tangente va a più infinito e quindi anche il logaritmo va a più infinito e quindi effettivamente è una funzione del tipo che abbiamo descritto nell'esempio b1 quindi qui abbiamo pi greco allora vediamo l'esempio b2 no b1 abbiamo detto ecco qua eccolo qui esatto adesso vediamo di trovare x perché si riesce allora in questo caso abbiamo dobbiamo invertire dobbiamo porre logaritmo della tangente di x di t fratto 2 uguale a t meno t zero e quindi abbiamo che la tangente di x mezzi è uguale a e alla t meno t zero e infine che x è due volte arco tangente di e alla t meno t zero e effettivamente se t tende a più infinito l'arco tangente di più infinito fa pi greco mezzi x di t tende a pi greco come ci aspettavamo vediamo un esempio infine del caso b2 prendiamo g di x uguale a 1 meno x al quadrato e qui naturalmente x con 1 sarà uguale a 1 e prendiamo x con 0 uguale a 0 cosicché g è positiva allora qui abbiamo l'integrale fra 0 e x questa sarebbe la g grande ormai l'è sparito completamente 1 fratto radice di 1 meno x al quadrato anzi xy al quadrato in xy e questo è facile questo fa l'arco seno di xy calcolato fra 0 e x e quindi fa esattamente l'arco seno di x l'arco seno di x è proprio l'espressione che è scritta in questa figura qua quando x è uguale a x1 che sarebbe 1 l'arco seno ha la derivata infinita e quindi se io pongo arc seno di x di t uguale a t meno t 0 e trovo subito che x di t è uguale al seno di t meno t 0 quindi vuol dire che questo integrale tra l'altro arco seno di 1 è pi greco mezzi quindi per esempio il g diciamo così g di 1 0 e sarebbe il valore in cui g ha la derivata infinita diventa esattamente arco seno di 1 cioè pi greco mezzi quindi qui ci accorgiamo che quando t è uguale a t 0 più pi greco mezzi quando sono passati pi greco mezzi secondi allora il seno è diventato 1 e quindi x di t è uguale a x1 uguale a 1 quindi in questo punto qua a questo punto che cosa succede? a questa soluzione succede che il punto comincia a tornare indietro cioè quando t è maggiore di t 0 più pi greco mezzi ecco in questo caso x di t decresce e continua diciamo così a decrescere ed è il caso del grafico blu che abbiamo disegnato qua cioè il seno arriva al punto di massimo e poi continua a decrescere la funzione del grafico in questo caso partiva abbiamo detto da 0 arriva qui a pi greco mezzi se t 0 è uguale a 0 arriva qua all'istante pi greco mezzi poi continua a decrescere e poi farà quello che ci sarà da fare per trovare il grafico di qualcosa che si ferma dobbiamo ricorrere a una cosa tipo t alla quarta fratto 144 girato l'indietro ecco questo qua non lo facciamo perché è un caso molto particolare ma ci sono anche queste soluzioni che non sono uniche basta prendere una di quelle equazioni che hanno soluzione non unica cambiare t meno t e si arriva a una soluzione che arriva in un certo punto e poi resta fermo la situazione pertanto è questa qua uno parte da x con 0 e arriva in x con 1 e ci mette un tempo t1 meno t0 uguale integrale tra x con 0 e x con 1 chiamiamo h di xi e non ci pensiamo più semplicemente uno fratto radice di g di xi tanto è sempre la stessa e questo è il tempo quindi per andare da qui a qui fase 1 poi a questo punto il punto torna indietro per ipotesi e arriva fino a x2 che si trova prima di x0 allora a questo punto la velocità si inverte per cui il tempo t2 meno t1 sarà l'integrale tra x1 e x2 di meno h di xi in di xi perché la velocità si è invertita e difatti x2 è più piccolo di x1 e questo diventa quindi più integrale fra x2 x1 di h di xi in di xi infine arrivato qua il punto gira di nuovo e metterà un tempo t3 meno tu meno t2 uguale l'integrale fra x2 e x0 di h perché stavolta la velocità è di tornata positiva di xi in di xi allora il tempo totale diciamo in cui il punto è stato in giro prima di tornare in x0 sarà integrale fra x0 e x1 più integrale fra x2 e x1 più integrale tra x2 e x0 però capite che adesso questi due sempre della stessa h di xi capite che questi due integrali qua che sto segnando in rosso sono uguali all'integrale tra x2 e x1 perché l'integrando è uguale e quindi sono uguali a questo quindi alla fine il tempo totale il periodo è due volte l'integrale tra x2 e x1 di uno fratto radice di g di xi e di xi e quindi uno anche diciamo così senza risolvere l'equazione del moto può calcolare il periodo totale delle oscillazioni se è in grado di calcolarsi l'integrale un esempio quello di prima esempio in cui g di xi era qual'era quella del seno al quadrato uno radice di uno meno xi quadro ecco che è quello che corrisponde alla al moto armonico ecco in questo caso qua se io faccio l'integrale allora intanto gli estremi sono uno e meno uno quindi x1 è uguale a uno e x2 è uguale a meno uno sono i valori in cui g fa zero scusate g di xi non è la radice ecco quindi g di xi è fatta così uno meno xi al quadrato questa è la g di xi questi sono meno uno e uno allora in questo caso se io faccio l'integrale tra meno uno e uno di uno fratto radice di uno meno xi al quadrato in di xi e moltiplico per due questo ovviamente è intanto la cosa è simmetrica e quindi questo diventa quattro volte l'integrale tra zero e uno di uno fratto radice e quindi è quattro volte arc seno di xi calcolato fra zero e uno e quindi è quattro volte arc seno di xi l'axeno di uno fa pi greco mezzo l'axeno di zero fa zero e quindi esattamente due pi greco e di fatti questo è il periodo del moto armonico che ha g di xi diciamo questa g di xi che corrisponde poi di fatto al potenziale della molla prendete infatti mx due punti uguale a meno kx quindi punto soggetto a una molla ideale meno kx è la forza allora qui si vede subito che mx l'energia cinetica è mx punto al quadrato mezzi l'energia potenziale è kx al quadrato mezzi quindi questa cosa qui è uguale ad e allora prendete e uguale a un mezzo e k uguale m uguale a uno basta a questo punto avete x punto quadro uguale a uno meno x al quadrato che è esattamente uguale alla g di x che abbiamo usato in questo esempio in questo caso l'equazione è x due punti più x uguale a zero e la x di t si vede subito essere a seno di t meno t zero questo si vede subito che la derivata è uguale a meno x allora bisogna capire cosa vuol dire e uguale a un mezzo siccome e uguale a un mezzo vuol dire per esempio dunque è quello quindi mk uguale a uno vuol dire x punto di t zero fratto due più x di t zero fratto due ecco per esempio possiamo prendere x punto di t zero uguale a uno e x di t zero uguale a zero ecco infatti se questa è la soluzione x di t zero è già uguale a zero se faccio la derivata viene meno a anzi più a coseno di t meno t zero e quindi se x punto di t zero uguale a uno questo implica che a è uguale a uno e quindi si trova la soluzione che abbiamo detto noi quindi questo era il metodo di Weierstrass visto abbastanza in dettaglio in parecchi dei suoi anfratti analitico matematici adesso cerchiamo di applicarlo due esempi significativi da questo punto di vista che sono il pendolo semplice che tanto semplice non è e il pendolo sferico che quantomeno si capisce che non è semplice vedremo come funziona dall'aspetto meccanico sono degli esempi molto semplici dal punto di vista analitico un po' meno però sono esempi in cui effettivamente la soluzione non si riesce a trovare in maniera elementare così come per esempio l'oscillatore armonico che invece ammette delle soluzioni che conosciamo tutti delle soluzioni sinusoidali che troveremo ritroveremo quando parleremo poi più avanti di risonanza di oscillazioni lineari e così qui si tratta di qualche cosa di un po' più complesso e quindi siamo in grado di dire solo delle informazioni di tipo qualitativo però non da poco sia nel pendolo semplice ma soprattutto nel pendolo sferico quindi le due prossime lezioni saranno dedicate una ciascuna rispettivamente all'analisi di questi esempi e quindi arrivederci a presto e grazie dell'attenzione grazie a tutti